bello ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi col mio amico il sindaco di gotham giocchiamo alla non respiro challenge hai fatto strada da quando eri un vampiro arrapato e ora ben affleck hai rimpiazzato è il tuo compleanno per caso è tipo in un altro universo scusate stavo cercando un pikachu non si capisce una mazza una madre morta che non era sarta qual è quel nome che fa rima con la risposta è marta perché hai detto quel nome non mi campona o altri enigmi il servo per te non dirlo calma però non Grazie per la visione!